le cuginette si incontrano di nuovo sei pronta? Suda! 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 ma che sta dicendo? Suda! 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 ma che di te due? forza! finalmente insieme! ciao! ciao! buongiorno! ah lui è lo straniero adesso andiamo insieme ad andare al parco giochi parco giochi luna park signorine buongiorno Auri si gira a brilla quello di Auri bimbe siamo arrivati al parco giochi siiii siiii e andiamo vieni a park yeah vai ehi andiamo al parco giochi ton 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 ma cosa è suona così? andiamo al parco giochi ton 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 ci andiamo 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 al parco giochi vai dai un merlo cosa? un merlo un merlo c'è? la sotto? che bello tutto verde le tartalene le tartalene andiamo al parco giochi ton 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 dai dai mi spingi un attimo sola si aspetta uno due e tre e tre mettiamo aurora sull'altalena sei pronta? una e due tre e andiamo al parco sulla luna arrivo uuuu il parco della luna muovete i piedini che andate veloce io mi so spingere la sua siete bravissime me me lo ricordo qualcosa me lo ricordo ok no uuuu anche io faccio le cose da bimba se non cado uuuu arrivo fermati 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 non ma sei scesa alla fine oh 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 facciamo scendere aurora dove vai chiara attenta eh si ooooo dove sei oh mamma stai attenta eh si non hanno due quali avrei le motore difficile da fare olé le mie nipote mi stanno facendo fare il giretto di no 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 leee no ci ha lasciato così chiara uffa chiara lo facciamo insieme lo facciamo insieme lo faccio io ma io sono più pesante di te non ho niente guardate salgo sul cavallo eeeh aurora è alta e io sono giuuu yeeeh cambiamo ti metti sul cavallo è perchè così restiamo fermi io sono pesante tiandam 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 vai nella casetta inizia a fare caldo anche qui ora mi tolgo la giacchetta vediamo se mi invitano a casa loro ma già siete uscite di casa volevo vedere se mi invitavate a casa vostra posso entrare a casa posso entrare a casa andiamo a casa ahhh questo sta bene fresco ehi ciao tutti io sono cinzia io sono chiara eheh aurora aurora e siamo dentro una casetta yeeeh e siamo a poco giochi e niente per esempio per esempio bucacca non ti dicono queste cose non ti dicono queste cose non ti dicono e siamo dentro io sono i vestiti di nuovo i suoi vestiti di nuovo che mi ha comprato tanti mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma tutti i vestiti questi tutti questi guardate guardate che bello qua c'è il lego wow e c'è scritto princess non è vero c'è scritto best friends e anche princess perché qua c'è scritto best friends guardate aurora e aurora cosa ha? la magliettina e i pantaloni e i pantaloni e il bracciale e il bracciale il bracciale de girabrilla il braccialetto suo no è il mio è il suo però me l'ha prestato un attimo per stare male però sto male ma che dici che stai male? per fare finta per fare quindi questo è un braccialetto magico con il palline perché che colorate eh sì tu non devi rompere no non le devi rompere così mia mamma si arrabbia e te la schiaffi ma che dici ciao buonanotte oh guarda è di vetro addio oh non è vetro quello addio ciao è io addio ma io sto tanto bene qua dentro non si vede niente però solo che devo stare attento a quelle monelle 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 ah sono sopra il cavalluccio va bene si sta scaricando pure la batteria quindi ci vediamo dopo ah proprio immobile dove siamo? dillo dillo in inglese no è al contrario dovrebbe essere tipo prima quello sotto e poi quello sopra vabbè vedi no si chiama Hall American Dinner ma che scrivi l'America 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 c'è scritto che bello ecco chi te l'ha regalato questo? la zia del cuore che bello ah pure l'esterno c'è guarda andriamo Giorgi qui salve e ci siamo già stati ciao 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 the blues brothers ma dove ti ho portato? dove l'ho portato? dove? l'ho portato lì volevo vedere guarda che bella luce full che c'è mamma e la canzone quella che è ma te l'ho detto io eh lo so l'ha detto lei però ora l'ho detto e ora in pratica in questo locale ti raggiungi il video no ti tagli il video ha girato il suo video qui il video irraggiungibile seguo per raggiungibile insieme a Federica comunque c'è un altro video spettacolare qui Chiara ma in che totale bellissime siamo? e non è a me non è la prima volta di lettero Chiara però da adesso dobbiamo parlare in inglese sei pronta? hi my name is Cinzia your name is Giorgia facciamo così dobbiamo parlare americano ma questo non è americano americano italiano perché noi siamo americani ma veniamo in Italia per mangiare al ristorante americano non è convinta parla pure tu come me ciao comunque raga guardate che macchina spettacolare che c'è qui cioè sognavo questo locale e finalmente sono qui finalmente sì cioè non proprio questo questo dove sono oggi in generale questo cioè questo tipo parla americano no devi parlare così parla così parla in modo con l'accento americano la 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 e mi manca di vedere va bene mi manca di vedere i piatti con voi cioè pure pure questo è bello pure questo appena porto dei panini vi faccio vedere che panini giganti che ci siamo presi con noi abbiamo preso qua Alice con gli anelli di cipolla ma allora abbiamo aggiunto un panino gli anelli di cipolla tutte e due anch'io ero intente a farlo naturalmente alla fine lo faccio molto bene sei acost. sono То si vasce è sembra la stessa cosa la 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 l banana mi 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 rarre dedledledledledledledledledledledledledledledledledledledledledleded I love you I love you so much. I love you sarebbe il vivipitantissimo. I love you so much. Vivipitantissimo. No, Ili. Ili SM. Ili. Ili SM. Ili. Ili. Ili SM. Ili so much. Ili so much vivipitantissimo. Vivi vivi. Ili so much. Vediamo il video. Vabbia, vabbia. Va bene, ragazzi. Comunque, falsi temporali in questo video. Come sempre nei miei vlog, ma va bene. Riportatevi a stare insieme. Pronto? Pronto. Pronto? Chi parla? Ciccio con la palla. La palla se ne va e Ciccio resta qua. Grazie. Oddio no, ragazzi. Happy birthday, aspettate. Comunque, in tutto ciò mi è arrivato il panino. Siete pronti a vederlo? Ma scusa, questo è petto di pollo? E infatti non è mio. Troppo una patatina, però. Ah. Vabbè, era questo. Però non è mio, ragazzi. Ciao, palino. All day del nostro, ok. Ah, eccolo qui. Yeah. E questo qua perché è uguale alla zia. Ora sto vogliene di cipolla, li mangio a casa. È un po' una torre di Pisa, ma buonissimo. Pisa. Guardiamo Giorgia mentre era per mangiare. In realtà sto organizzando. Aio aio. È caldo. Buon appetito. Aiuto, iniziamo. Ciccandese, Giorgia. Siamo pronti? Buonissimo, Giorgia. Buonissimo, Gianelli. Giorgia. Buon appetito. Buono! Mi butto il panino Ragazzi c'è la raccomandazione Si stanno facendo fare la foto dentro la macchina Quella là E qui? Che bello! Io mi metto al volante Si, lei si metta al volante Ha dieci anni Comunque questo è il locale dei miei sogni In pratica, andiamo, andiamo Grazie, grazie sir Sono per voi, papà Amore, casa E senza benzina Il raccomandato di mio padre Ragazzi sto per entrare Ah, qua hanno fatto un disastro Io sono già entrata Ma non sono stata io, è stato il mondo Si deve sistemare, guardate Entriamo Che bello, vi ho fatto delle foto dentro la macchina Ed è tipo una cosa troppo bella Oddio, è un po' Impolveratissima Vabbè, ma Ma c'è Siamo dentro la macchina Oddio, oddio Dove vi do ci wanna go Si do Chicago Papà, devi parlare in italiano No, penso in italiano Ma sei su Youtube però Ah, è siciliano Mio padre è siciliano E' siciliano Ripetantissimo Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè Vabbè, vabbè 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 Vabbè